Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi dopo qualche tempo torniamo a occuparci di giochi per Android abbiamo pensato di recensire Racing Legends, un titolo di corse automobilistiche che dovrebbe piacere non poco chi ama la Formula 1 e che è disponibile su Play Store da qualche settimana, al prezzo di 1,99€ vediamo come è fatto questo gioco, vediamo come le opzioni ci permettono di scegliere i vari controlli aumentare e diminuire la sensibilità dello sterzo, effettuare eventuali pit stop, quindi attivare i pit stop in gara non manca chiaramente la modalità quick race per effettuare gare veloci generate in modo casuale ma il cuore del gioco è la modalità carriera che suddivide per epoche tutti i campionati quindi anni 60, anni 70, anni 80, anni 90 e 2000 i circuiti non sono ufficiali, almeno il nome non sono ufficiali perché questo gioco non ha licenza FIA ogni campionato è composto da 8 gare, 8 circuiti anche i team come vedete non hanno nomi ufficiali ma sono inventati però di fatto sono quelli, ad esempio queste sono le vetture tipiche anni 60 possiamo vedere quelli anni 80 ad ogni modo adesso faremo ad esempio una gara, prendiamo ad esempio una vettura anni 90 prendiamo l'equivalente della Ferrari e vediamo com'è questo gioco a mio avviso è un gioco molto carino, graficamente curato ha una struttura diciamo arcade a mio avviso è un gioco molto più, graficamente che si riuscirà un gioco ma è un gioco Possiamo in realtà decidere diverse camere, vedete, anche se questa fosse un po' scomoda da utilizzare, c'è anche questa, vabbè adesso mi sono impuntato, ad ogni modo la visuale di gioco consigliata è questa prende dall'alto, vedete come il gioco scorre molto fluido ad esempio su Galaxy Tab 2, ovviamente io ho potuto testare anche su altri device come Galaxy Nexus ma anche prodotti single core, gira molto molto bene, vedete come tutto scorre fluido, ups vado sempre a impuntarmi lì, in quella chicane, no un gioco ovviamente molto molto bello, forse l'unica pecca che ha è la mancanza di una modalità multiplayer, però lo sviluppatore sembra molto attivo quindi non è da escludere che in futuro possa imprendere questa modalità anche su questo gioco, vedete, è veramente molto divertente, fermiamoci qui, quindi questo era appunto Racing Legends, un titolo di corse arcade, quindi se amate i giochi arcade, volete un gioco di corse molto immediato, semplice da imparare, quindi immediato nel divertimento, questo titolo è a mio avviso uno dei più belli di corse disponibili su Play Store per Android, costa 1,99€, a mio avviso li vale tutti, quindi se cercate un gioco molto divertente amate anche la Formula 1, volete assaggiare un po', volete vivere un viaggio nella storia della Formula 1, giocando le varie epoche, Racing Legends è il gioco che fa per voi, e con questo è tutto, rimando alla prossima recensione, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!